In Corea in questi giorni sta succedendo tanti incidenti tra le famiglie, suicidi o omicidi tra le famiglie. Allora da lì lui ha iniziato a pensare chi è che fa male all'umano, umano oppure diavolo. Allora proviamo a pensare chi è veramente il diavolo alla fine. La storia del film è una storia della famiglia, poi un giorno o l'altro entra un diavolo dentro la famiglia che prova a distruggere la famiglia. Torino Film Festival, ciao!